abbiamo iniziato ciao monica sono qui con vincenza ciao 5 4 3 2 1 bella l'immagine che mi propone è su un piccolo molo la vedo di spalle con il cappello in testa i piedi a bagno nell'acqua del mare capisco che sotto al mare sono nascoste tante cose però lei è fiduciosa e ferma e guarda avanti ci dà l'autorizzazione si volta la testa verso di noi e ci fa segno di sì sorride vibrazione a dispetto di tutto 25 miliardi consapevolezza 167 ps 57 vite 2006 finale cervello 10.1 nome del progetto mi viene vissero tutti felici e contenti della ps se balena pie guida vediamo l'identità eteriche subito un leone un coccodrillo un coccodrillo tipo un rospo un canide dei grigi dei grigi e tipo come sei dei sì ma sono i grigi che sono in un qualche modo gli inservienti no è di tipo come se fosse non so come spiegarti è una popolazione che ha dei tratti non so tra la volpe e il cane dei cani sì c'è altri cani lì sì esatto cani d1 cani d2 poverini loro sono tutti belli impegnati a interferire questo quell'altro io li definisco cani d1 cani d2 poi e poi 3 dl basta dei disincarnati vari diversi numero variabile la media di decine unità centinaia ma guarda come alcuni potrebbe anche esserci una sorta di dialogo chiamiamolo costruttivo con altri no c'è proprio un'interferenza quindi se vogliamo prendere che cosa vogliamo prendere le interferenze quindi quelle bloccanti no per tutti perché anche 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 disincarnati insomma bisogna capire se lo desidera comunque tutti nell'ordine della cinquantina entità mentali sono tre una si chiama distrazione e l'altra eredità e poi tra la gente tra la gente tra la gente tra la gente livelli allora 3 la distrazione 4 l'eredità e 5 fra la gente 5 304 eredità sì sì 4 eredità e 3 la distrazione distrazione vediamola come se ci fossero diverse situazioni che la distraggono da il poter vivere la propria vita personale e quindi lei si perde in altre cose quindi a volte si è come se riuscisse a prendere lei le redini della situazione altre volte però non ci riesce si fa un si fa sopraffare per esempio il periodo in cui lei era stata vittima diciamo della fattura ovviamente distrazione era a livello 6 o 7 si era fatta completamente distrarre dai suoi impegni lavorativi e di studio ed assorbire completamente da questa forma energetica negativa e l'altra e l'altra è eredità e allora eredità allora intanto vabbè mi ha fatto vedere che l'eredità è proprio su più livelli e alcuni livelli sono non necessariamente di interferenza eredità mi ha fatto vedere che è riferito a questi facoltà che lei ha e che sono comuni alla nonna materna ok? quindi lei come se li avesse ricevuti in eredità da questa donna l'eredità però è anche proprio nel vero senso della parola no? lei ha ricevuto dei soldi diciamo così in eredità 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 che però ha scatenato purtroppo una serie di invidie e di malelingue all'interno della famiglia dei disagi un po' grossi è come se fossero a catena una serie di eventi legati appunto all'eredità e tra la gente? tra la gente questa entità mentale che le rende difficile l'inserimento tranquillo nei contesti in cui ci sono gruppi di persone i gruppi di persone che può essere che ne so l'ambiente lavorativo oppure gruppo di persone che può essere che ne so un evento pubblico o tipo una festa di paese come lei ci ha fatto l'esempio no? si generano sempre delle complicazioni delle interferenze oppure anche quando si deve che ne so ritrovare con un gruppo di amici sempre degli ostacoli e quindi magari questo incontro non riesce ad avvenire quindi proprio la difficoltà di inserirsi in mezzo a dei gruppi va bene ci sono degli impianti guarda mi fa vedere quello che è stato emesso durante un abduction una sorta di scotch davanti agli occhi come se lei non riesca a vedere completamente tutto ciò che c'è da vedere per esempio le soluzioni è uno scotch che funziona in maniera un po' particolare quindi non è un discorso di non vedo niente è un discorso di vedere cose che però poi la mantengono intrappolata senza vedere le soluzioni senza vedere le soluzioni come impianto mentale tipo fosse un cerchietto di quelle che si usano quando sei bambina addome genitali ginocchia basta annegamento da piccola va in una sorta di trance diciamo l'acqua l'acqua è anche bassa quindi non ha realmente rischiato la vita tuttavia vede all'inizio in questa trance un giardino di fiori poi la portano nel fondo del mare qualcuno la porta nel fondo del mare aprono lo scrigno ci sono le monete d'oro chiama i responsabili ma io direi la sua ps qua perché lei è proprio andata a prendere la sua eredità in questo caso la sua eredità chiamiamola più spirituale la sua eredità relativa ai propri poteri alle proprie facoltà espanse e l'ha fatta in questa maniera un po' particolare in modo che rimanesse indelebile come se rimanesse poi una sorta di momento di passaggio indimenticabile dove lei capisse che da quel momento le cose cambiavano aveva preso l'eredità delle monete in mano e quindi da lì avrebbe avuto i suoi sensi diciamo così più espansi quindi era la ps non era un abduction questa no questa no andiamo quante ne ha adesso quando è avvenuta questa questa no no quante ne ha adesso di abduction a quante ne ha scusami allora mi dice sette però aspetta che devo collocarle allora sette adesso in effetti la situazione è un po' migliorata va anche un po' a periodi alterni in verità è sette però me le spalma su uno due mesi mi dice sette uno due mesi tre quattro mese così si dai alcune lei le ricorda da qualche parte ci ha parlato di uomini piccoli sono i grigi si sono i grigi che sono un po' gli inservienti di questi canidi intesi più in senso alieno è non l'interferenza eterica canide che c'è che c'è anche quella una volta una volta lei sente che c'è stata un abduction e si trova sul corpo un disegno non ho capito se poi è scomparso ma immagino di sì somigliante ha fatto delle ricerche e somiglia al lupo egiziano sospetta un canide e nubi sì sì ma infatti corretto anche perché chiaramente chi esegue l'abduction sono appunto generalmente i grigi però gli hanno lasciato questo marchio di provenienza diciamo così no da chi arrivava la committenza dell'abduction qual è l'obiettivo di questa abduction? Allora l'hanno individuata già fin da bambina il fatto che lei abbia ricevuto questa eredità a me sinceramente viene prima molto prima dei dieci anni cioè mi dice come età che potrebbe essere cinque anni anche che ha avuto questa cosa qui e quindi è stata immediatamente come dirti attenzionata perché è come se loro fossero molto interessati a comprendere come noi umani riusciamo a recuperare certe facoltà eppure essendo avendo fatto la scelta di non ricordarci di queste facoltà infatti infatti la maggior parte di noi di fatto non le sviluppa quelle poche persone poi non sono pochissime però siccome lei ha diversi tipi di facoltà queste poche persone vengono attenzionate e quindi analizzate quali quali sono le facoltà di vincenza questa capacità di connettersi ai disincarnati avendo praticamente un dialogo come fossero persone cioè non allora alcuni medium hanno per esempio bisogno tipo la scrittura automatica cose del genere non riuscendo in un vero contatto diretto a lei viene molto spontaneo quasi più dialogare con i disincarnati che con i viventi ecco quindi questa è la prima dunque la seconda e ride e fa pollice in su e va bene perché comunque a volte sono più vivi i morti che i vivi vabbè comunque questa è molto spiccata dunque lei lei riesce a comprendere il livello energetico delle persone che la circondano quindi riesce anche un po' a capire non so come dirti adesso mi viene dolore qua aiuto un attimo perché a volte quando lei percepisce diciamo così la composizione energetica della persona la qualità energetica della persona a volte ha proprio come delle somatizzazioni specie se si trova di fronte ad una persona che da un punto di vista energetico è qualitativamente molto bassa a dire della bassa vibrazione ma proprio la sua composizione energetica è di bassa qualità? lei può effettivamente accusare dei sintomi fisici non è che sia tanto buono questa cosa perché chiaramente questo toglie energia a lei però per indicare che lei è molto sensibile e quindi assolutamente sa individuare due cose sia la frequenza la vibrazione della persona che ha in quel momento ma sia proprio la qualità di base diciamo così quasi il grado di evoluzione di quell'anima credo anche che allora abbia un udito diverso dal nostro vicenda vicenda perché come se riuscisse al di là dei suoni penso che lei riesca a percepire altre frequenze non so come le arrivano cioè quel tipo di frequenza sonora non viene percepito come suono ma come messaggio attiva la visione ecco come chiameresti questa con frequenza onda a lei allora aspetta perché lei me la chiama HZ V viola HZ V ma vedi viola o la vedi viola si mi fa questa sottile linea viola si anche poi cosa succede che questo fatto che lei sente in maniera diversa la proprio portata a parlare eh con i sordi cioè a studiare la lingua dei segni in maniera è un po' difficile da spiegare cioè come se lei eh ovviamente comunica con la lingua dei segni ok perché è stata inventata apposta per per i sordi no? per farsi capire però è come se lei riuscisse a sentire le parole eh di questi sordi perché in qualche modo ma c'è un'analogia con i disincarnati? sì in un certo senso sì perché è un udito diverso è un senso diverso ma Monica chi è Vincenzo? Vincenzo è una grande anima ti devo dire che mi ha colpito molto anche se mi viene fuori vedi no gliel'ho chiesto eh che lei ha difficoltà un po' a gestire queste cose e probabilmente ha dei problemi alimentari o di disordine alimentare qualcosa che ok è perché sai allora non è facile no? gestire questa eredità e quindi eh ogni tanto non ha il controllo delle cose e quindi il cibo dà un po' un senso di calma è stata anche anoressica è è è è è un casino sugli alimenti è proprio un po' un casino no? perché riflette questo anche un po' disordine eh emotivo no? di dato da tutta questa situazione qua anche perché la gente sai che cosa? che la percepisce che tra virgolette strana mh e quindi alla fine eh insomma eh per lei è difficile sentirsi a proprio agio allora questa mh questo disagio lo riflette sul cibo a volte eh privandosene a volte mangiando in maniera disordinata va bene ehm chiamiamo nel cinema tuo padre è vivo vero? sì mamma anche fratello mamma c'è proprio come se fosse una specie di frattura ehm conseguente a un terremoto per cui io vedo ehm Vincenza e la madre ehm da una parte eh di questa ehm frattura della terra dall'altra parte ehm il padre e il fratello mh e in mezzo proprio c'è questa spaccatura quando avviene la spaccatura se nasce così? allora fondamentalmente è da sempre poi c'è stato quell'episodio che lei ci ha raccontato e che va proprio a suggellare negli eventi quindi il padre ce l'aveva in braccio e non si capisce come gli scappa dalle mani e lei va a finire a terra ok? quindi da lì in un certo senso come finendo a terra frattura no? ehm però io lo vedo che di fatto è da sempre così è come se lei appartenesse quasi solo ed esclusivamente alla linea materna ecco e ha quella linea lì maschile padre fratello veramente poco in comune la nonna materna è quella delle capacità medianiche giusto? ehm e non c'è più ehm no infatti non c'è più e volevo dirgli che questo è tra i disincarnati più attivi al suo fianco ah sì? eh sì 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 ma non dovrebbe stare qui allora però ti dico che alcuni di questi disincarnati che lei ha è valido quello che dici tu non dovrebbero stare qui altri è allora funziona in maniera un po' diversa rispetto a come noi la ragioniamo noi viventi no? per noi se siamo in un posto non siamo in un altro posto ok? c'è qualcosa che non va se siamo in due posti per loro può non essere così alcuni davvero non hanno consapevolezza e quindi rimangono attaccati qua però altri raggiungono già l'aldilà e in talune circostanze è come se scendessero passami il termine un po' grezzo ma non rimangono qua possono ritornare là cos'è l'aldilà? l'aldilà che è quello che poi noi chiamiamo il portale aureo è la stessa cosa per te? sì 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 per me è la stessa cosa perché è un luogo non luogo dove si sono spogliati no? di tutto il passato di tutti i ruoli di tutte le amarezze si assicura che sia lo stesso perché spesso l'aldilà come abbiamo visto in una sessione è comunque dominio delle interferenze quindi ha delle forme diverse a seconda dei credi dei credo anche religiosi della persona gli si fa un attimo il conteggio dei pro e dei contro dei meriti e dei demeriti la bilancia la bilancia di Anubi la piuma e poi viene accolto in una nuova incarnazione perché devi sistemare il karma maestri boiate qua il portale aureo è un'altra cosa sono parole però capisci? cioè nel senso al di là vuol dire cosa vuol dire al di là? vuol dire oltre quindi cosa succede? che determinate forze energetiche si impadroniscono di un termine di un ambito e lo fanno suo ok? ma il termine di per sé è neutro la cosa di per sé è neutra poi ovviamente al di là è stato preda di tutto quello che hai detto tu ok? quindi è diventato dominio ma in sé per sé al di là è solo un modo di intendere non so se mi sono spiegata bene certo chiamiamola la nonna insieme a tutti i disincarnati che vogliono venire e a tutti quelli che interagiscono con lei prima era seduta vicino a lei già all'inizio della sessione cosa ci dice? ma la nonna vedo che le sistemava i capelli e le teneva la mano perché insomma sa che è una sessione un po' impegnativa cosa dice a te Monica? che dobbiamo comprendere ancora tanto dai disincarnati cosa? che è come per le persone ci sono vari tipi di persone vari tipi di evoluzione di coscienza nelle persone e così è per i disincarnati e lei che tipo di evoluzione ha? ed è questa energia che rimbalza da là a qua da là a qua c'è come se non avesse intenzione di stare stabilmente qua perché lei sa che non è più un essere umano lei sa di essere morta lei sa di essere anima ci sono altri invece che o non sanno di essere morti non hanno compreso cosa significa essere anima non hanno compreso non sono in evoluzione no? non sono in uno stallo la gran parte eh certo la stragrande maggioranza sì assolutamente cosa vuole dire a Vincenza? occasione più unica che rara conosciti e chiedi a te stessa ce le mi fa comprendere che è lì non per dare delle risposte ma quasi per invitarla a prendere proprio più confidenza che mai con la propria anima e col proprio spirito scusa Vincenza la non era religiosa molto cosa ci dice about religion? che nel momento in cui è morta cioè dunque il processo che è avvenuto in Vincenza è molto simile a quello che è avvenuto nella nonna cioè Vincenza ha compreso per esempio il tradimento e l'inganno della religione in un attimo in un tempo velocissimo e dici in anni e anni sono stata dentro completamente e adesso è tutto chiaro in un istante e la stessa cosa è accaduta alla nonna praticamente nel momento della morte come se avesse visto l'inganno bene la nonna vuole andare nel portale aureo e se vuole anche tornare o l'ha già fatto? a me sembra di sì ok chi altri c'è? come lei ha chiaramente percepito tanti bambini e adolescenti però anche degli anziani perché lei anche ha finita con gli anziani per via giustamente insomma dell'attività che ci ha raccontato e poi c'è anche il precedente proprietario di questa casa che lì ecco è come se ecco lì sai che cosa si è creata? un po' una situazione pesante nel senso che è come se questo proprietario la sentisse ancora sua la casa e oltretutto essendo stata una persona in vita molto religiosa è come fare in qualche modo presa su quello che era l'esperienza precedente no? di Vincenza anche lei era religiosa quindi va a creare veramente un po' un blocco e va a creare proprio questi sogni che lei ogni tanto fa che fondamentalmente si riferiscono ad arcangeli madonne piuttosto che a proprio io ecco appesantisce proprio da questo punto di vista perché è come se la riportasse indietro quindi chi altro si presenta? qualche bambino affogato tutto tutti nel portale e salutiamo ah ecco qualcuno dai cimiteri ok chissà perché viene molto anche dalla regione della Liguria perché? non ho idea se lei in qualche modo abbia qualche connessione con la Liguria va bene li salutiamo tutti al momento salutiamo anche la nonna sì 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 adesso Vincenza è seduta da sola la impossibilità in quattro anni di riuscire a invitare degli amici a casa sua ha una causa esoterica? sì perché c'era quest'uomo un ex proprietario che proprio reclamava che quella casa era sua cioè non ci dovevano essere estranei no? casa sua ma perché mai? ok e poi anche l'entità mentale tra la gente però eh la difficoltà proprio a creare delle situazioni sociali la tendenza ad avere acqua dai soffitti cosa che adesso è un po' passata perché è stata ristrutturata a una causa esoterica allora l'ideale per il proprietario di casa sarebbe stata la casa vuota quindi che lei in un certo senso si stufasse benché insomma è un po' improbabile perché lei l'ha acquistata casa cioè non è che semplicemente in affitto no? però creare un disagio veramente fastidioso tale per cui lei magari avrebbe deciso insomma no di lasciarla assenza di corrente in una stanza eh sì siamo sempre così ok ma questo ex proprietario adesso non è più lì cioè dopo il portale aureo che abbiamo appena fatto allora non è più dentro la casa però è davanti al portale aureo bene prego si ricordi che può tornare indietro sì signore entrato si vuole tornare indietro a fare il fantasma nella casa di vincenza no per ora no perché? perché non si aspettava di trovare una casa ancora più accogliente della sua casa beh quindi c'è solo una casa c'è anche la consapevolezza la comprensione di tutto certo casa intesa proprio come totale realizzazione è possibile che torni indietro nei suoi passi? no non mi sembra ok lo salutiamo allora come si chiama? può essere anche un nome di un'altra vita eh che dia vorrei essere ricordato come Mario ok penso perché fosse vabbè se fosse legato a un personaggio che si chiama Mario boh non lo so se lo dici dopo no no non lo so non so ok vabbè vincenza vede essere in un terreni da sempre comunica con loro apparizioni sono disincarnati o come le sospetta Arcangelo Michele Cristo Madonna Padre Pio quindi entità sì allora queste assolutamente lei adesso avrà la facoltà di basta dire basta a questi tipi di apparizioni perché lei si ripulisce ok da questa entità quindi queste assolutamente le elimina allora però lei avendo questi sensi diversi dai nostri ok ce li ha un pochino più amplificati e naturalmente vede l'esistenza di altre forme energetiche l'importante è che lei non si faccia intaccare da queste però d'altronde l'abbiamo scelta noi questa esperienza di esistenza fatta così costituita da vari livelli energetici da varie dimensioni esistono chi era la Arcangelo Michele? uno dei suoi tre DL? sì sì chi era il Cristo la Madonna? allora il Cristo la Madonna però non le appartenevano più eh io direi che erano proprio delle interferenze del passato e direi che l'ora lì era il secondo universo però questi non le interferiscono più padre Pio? io lo vedo come un rettiliano ok lei dice che non sa proteggersi in questi casi eh lo so il punto è proprio questo ok che lei si crei una uno scudo protettivo suo perché il fatto è questo che lei giustamente ha da gestire questa eredità la capacità di vedere ciò che gli altri non vedono ok però è importante che può vedere ma non si deve far interferire e questo è il suo compito di vita no? riuscire a gestire tutto questo lei può scegliere no? un suo metodo che la fa sentire protetta può scegliere di crearsi una specie di scudo energetico adesso mi fa vedere che potrebbe essere tra il blu e il bianco no? da cui lei insomma non passano eh queste cose che lei può vedere non passano oltre questa bolla questo scudo che lei si crea potrebbe fare così o un altro giorno potrebbe scegliere un altro modo per proteggersi ma lo deve fare sempre poi poi forse a un certo punto diventerà naturale proteggersi no? senza più fare queste visualizzazioni se poi si rende conto che loro stanno entrando nel suo campo energetico può scegliere lei come allontanarli attraverso una deternum attraverso una sorta di smaterializzazione che lei crea in questo può essere molto creativa certo Monica vedi una fattura in Vincenzo allora nel passato c'è stata però io non la vedo più attiva piuttosto vedo che la questione dell'eredità ha prodotto proprio una malevolenza nei suoi confronti ok? quindi a volte è come se questi sentimenti malevoli molto forti creassero proprio degli aggregati energetici che possono somigliare alle fatture anche se non è che vengono creati con i crismi di una fattura la fattura quanto è durata? e perché è terminata? è terminata perché lei ha deciso basta ok? quindi di fatto non è riuscita a dire lo faccio io e si è fatta aiutare da una persona che faceva questo che l'ha aiutata a ripulirsi però sostanzialmente è stata la sua anima a dire ok portiamo a termine questa esperienza però a me viene che un anno è durata se non due ed è finita perché lei non ha voluto è certo ok l'ex dove adesso è teoricamente? qui che assiste? oddio no secondo me no in affari traffici trafficone cose molto ingarbugliate ma c'è ancora dell'interesse dopo tutti questi anni ogni tanto lui chiede in giro se lei è sposata dei figli allora non è un reale interesse per lei come persona ma per una cosa che è stata sua nel passato perché per lui le cose che sono sue sono sue per sempre molto materiale molto va bene causa esoterica del mioma diciamo che me lo lega all'impianto che c'è lì addome genitali causa esoterica del fatto che lo scopre dopo aver ricevuto un messaggino anonimo probabilmente di una cabina inviato da una cabina telefonica non avrai mai figli molto inquietante allora aspetta eh chi ha mandato questo messaggio aspetta eh allora dunque in realtà questo qui è tipo stata una forza eterica perché allora sicuramente poi effettivamente c'è stato un intervento umano no? per generare un messaggio però è come se questa persona che ha generato questo messaggio fosse stata guidata tipo da un falconiforme perché mi viene questo falconiforme ehm però qui era come se ci fosse stato anche un groviglio di ehm interferenze di disincarnati ehm un po' negativi e bisogna stare un po' attenti quando cioè allora io capisco che lei eh abbia questa disinvoltura nel contattare i disincarnati però ehm non la gestisce ancora tanto bene questa cosa quindi a volte si chiama a sé eh dei disincarnati che a volte sono collegati a delle entità certo certo io chiuderei tutto fino a che non è in grado di gestirlo se non rischia di riempirsi ogni due mesi e questa è una scelta sua fatemi un consiglio va bene nickel c'è una causa esoterica questa allergia se la vedessi legata alle persone perché la prima cosa che mi fa vedere è una moneta no perché la moneta sai è tenuta in mano da tante persone no va di mano in mano e poi arriva alle sue mani e quindi questo passaggio attraverso le persone è come se si caricasse di tutta l'energia negativa di queste persone e poi arrivasse a lei e lei non la vuole mi fa vedere questo quindi sicuramente legato quindi all'entità mentale fra la gente non supporta i rumori ASMR e questo perché lei è ipersensibile cioè lei ha i sensi molto sviluppati però non posso dirti solo che sono amplificati sono proprio come sviluppati in una direzione diciamo diversa pertanto questi suoni che sono molto concentrati risultano per lei fastidiosi proprio li respingono non vanno bene per lei Fobia dei buchi Tripofobica Allora a me è arrivata proprio come una serie di cellette legate ad un abduction come se fosse una specie di astronale chiamiamola così dotata di una di queste pareti con queste cellette in cui le persone sono inserite per i vari esperimenti ed è come se lei fosse rimasta questa immagine che naturalmente la terrorizza la inquieta tantissimo e vedi che era interessante molto bene vi sono tutti felici e contenti è il progetto dove vogliamo andare in tale direzione alla fine non è un brutto progetto no? Sì perché lei vorrebbe anche questo perché lei è anche animata molto da dei sentimenti altruistici il problema è che tanto non si può fare perché ognuno deve scegliere per sé di essere felice e contento altrimenti si finisce per perdere le proprie energie non possono essere tutti felici e contenti vuole andare al cluster sì 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 molto volentieri molto volentieri andiamoci e guarda ci è già arrivata e ha trovato una valigia molto 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 grossa e pesante ecco questa è un'eredità di cui si vuole sbarazzare volentieri sì sì lo butta via nel portale definitivo via via assolutamente è già pronta a creare la D'Eternum me lo fa tipo un po' naif come è disegnato con dei pastelli a cera anche in maniera sai no? un po' infantile molto carino colorato Avatar è una tipo un'acida direttrice di scuola ah così una storina Rottenmeier è tipo esatto così la tiene? no no via anche questa assolutamente spedita in un portale definitivo è curioso perché qua invece mi utilizza le matite colorate ma utilizza anche lo scarto della matita quando la temperi e fa un particolarissimo ad Eternum così basta questo per vedere sparire le entità eteriche e mentali? sì sì perché lei lo vuole certo ci sono ancora? no non ci sono più e gli impianti? no no se li ho tolti tutti benissimo nuova vibrazione di Vincenzo è 230 consapevolezza 204 anima 63 vite 1511 cervello 11.4 sono valori molto molto buoni molto alti il cervello è molto molto alto rifaccio la domanda oggi adesso in queste con queste condizioni chi è Vincenza? Vincenza Vincenza è un'anima speciale che ha scelto di venire a contatto con varie forme di vita e non vita ma deve gestire con molta molta attenzione questo molta attenzione potranno iniziare le cene con gli amici in casa? sì il suggerimento solo che le devo dare è togliere proprio lo specchio in camera sì certo che potranno iniziare certo un buon e sano atteggiamento me ne fotto sì le può servire nel senso tra x mesi sente il solito rumorino in casa prima ci diceva ma io quelli è normale che ci siano sì ma non devono esserci quindi se si sente il rumorino si nega il consenso non si desidera quell'esperienza e non la si teme più quindi me ne fotto non me ne fotto non ignoro il problema me ne fotto che voi possiate interagire interferire con me e quelli non possono più interagire interferire con te è un po' quello che facciamo noi altrimenti saremo pieni zeppi dalla mattina alla sera certo certo e quando a me succede di vedere con la cosa dell'occhio mi vende a ridere esatto a ridere e tre secondi dopo mi sono anche dimenticato che è successo ah sì è successo è vero talmente non me ne frega niente questo è l'arma numero uno a queste parole come la vedi? sì lei capisce che non devono ostacolare la sua esistenza sì perché sennò si ritrova sempre piena zeppa di problemi di difficoltà a stare fra la gente di insicurezze un po' anche quasi un po' un incubo no? a volte ha la possibilità di vederli di sentirli ma di non farsi condizionare e di far sì che loro non entrino più del dovuto nel suo campo energetico anche perché lei non può impedire che queste cose esistano perché abbiamo scelto noi che esistano quindi Vincenza da adesso in poi è il lavoro un clima più disteso avverte ma perché è proprio lei che emanerà una luce diversa come anche se sia stata sepolta l'ascia di guerra no? il passato sì è vero è avvenuto ci sono state molte incomprensioni tutto quanto però è come se lei fosse ammantata da un'energia di rinnovamento di superamento di tutti i contrasti che ci sono stati per cui poi non attecchisce più niente no? non attecchisce più niente nessun rancore nessuna recriminazione messaggio al padre che ha fatto il cinivac sai no Vincenza cos'è cinivac abbiamo fatto scelte molto diverse ma comunque io ti ho scelto come padre messaggio di Vincenza il fratello che ha fatto il cinivac un giorno ti renderai conto e io sarò qui ad ascoltarti alla madre che non l'ha fatto siamo anime gemelle al nipote o alla nipote non ricordo il nipote il il la nipote come se volesse giocare con lei e sarò giocare insieme perché lei è molto brava con i bambini no? un messaggio che vuole lasciare in etirico alla sua classe di adesso siete tutti dei boccioli per me e so che sbocceranno fiori diversi sono curiosa di vedere che cosa sboccerà e farò di tutto per annaffiarvi per acudirvi nella migliore delle maniere un messaggio di Vincenza a se stessa sto scoprendo la mia grandezza e come inserirla all'interno di questa dimensione che ho scelto di abitare facciamo un esperimento in fase di saluti a Vincenza viene improvvisamente voglia di salutare la nonna materna ma quella là è nel portale Aureo e allora la chiamiamo o andiamo noi con Vincenza nel portale Aureo un secondo andiamo noi vuole? sì descrivici quello che vedi tanto rosa mi fa vedere tantissimo rosa e mi fa vedere come sia quasi immediato no? come un raggio laser lei riesce subito a beccare dove sta la nonna si sono un po' diciamo attratte no? reciprocamente però è come se per entrare anche Vincenza avesse perso qualcosa nel senso buono di perso eh è come se l'entrare nel portale Aureo le abbia fatto perdere le paure delle invidie e delle gelosie altrui si è tolta di dosso questo strato qua un altro bel po' di me ne fotto sì su un altro piano esatto esatto credo che stanno come comunicando adesso mi pulsa tutta la parte della testa no? perché stanno proprio comunicando in maniera telepatica quasi un esercizio non so non è nipote bene si salutano? sì sì si salutano proprio in un abbraccio come può essere l'abbraccio energetico no? e la riportiamo di qua ma quanto vibra Vincenza? adesso 816 poi si calmerà un po' certo ok se i colleghi sono invidiosi di lei perché conosce il linguaggio dei segni e lo vogliono imparare anche loro adesso le fregherà qualcosa no perché proprio si è costruita questa specie di strato impermeabile no? per cui non non arrivano questi moti di gelosia scivolano a tossa lei immagine finale? oh la sento proprio libera e padrona non intimorita di nulla sicura ha districato tutti i nodi no proprio un po' un groviglio ma adesso li ha districati tutti quanti questi nodi quindi adesso vive felice e contenta? e dipende da lei nel saper veramente organizzare bene il tutto perfetto disconnettiti da tutto e tutti